Ciao, wow, meow e tutte le fusioni possibili e immaginabili per questa splendida giornata qui è il vostro DJ Comastri che vi parla dai microfoni di Love Radio vi ricordo il grande appuntamento di domani sera il concerto di Robert Zimmerman alias Bob Dylan per il Papa sì, avete capito proprio bene Bob Dylan suonerà domani sera per Udite Udite caro rocking boy Tila, il nostro santissimo padre sono attesa circa 300.000 persone ma noi andremo tutti quanti al concerto dei 400 colpi al circolo anarchico e al mio gruppo ska preferito voglio dedicare la prossima canzone Do Nothing Today I walk along this lonely street Trying to find, find a future Grazie a tutti Allora ragazzi, vi spiego il piano Io e Lippero andiamo nel campo di Pannocchi Tu stai qui e mi fai il palo Andiamo subito Andiamo Guardate i piedi dietro Dai tranquillo Dai, mi spiegaci, sei anche perché sei Pannocchi No, lei si ti riparò No, I love you like I do Oh, ce l'aveva beccato C'era addosso di brutto Il palo ha funzionato Sì, il palo non ha funzionato un cazzo Però è andata bene Adesso andiamo a beccare il burro di corsa Di corsa perché sennò va tutto a puntare Quello che mi ha fatto Allora, il mezzo ce l'hai? Tranquillo Berna, dopo la partita andiamo a prenderla Grande burro, sei un amico E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai Di giocatori tristi che non hanno vinto mai E che hanno peso di scarpe a qualche tipo di culo E adesso io lo volo dentro al bar E sono innamorati da dieci anni Con una donna che non hanno amato mai Chissà quanti ne hai veduti Chissà quanti ne vedrai Minogami fin dal primo momento L'allenatore sembrava contento E allora mise il cuore dentro alle scarpe E corse più veloce Allora, del mio penso Allora, gioco la faccia è meglio Qui ta ordinare Che sei un amico Così è un amico E guapa E ruode A successista Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.